Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video Allora, in questo video vi voglio parlare del perché, proprio dove è cominciato tutto cioè perché io ho deciso a un certo punto di punti in bianco di iniziare pure io a fare i video perché in passato io usavo il mio profilo più che altro per guardare altri video, per commentarli però non mi è mai passato per la testa di fare dei video così se non qualche video, però non di me, ecco magari di me che faccio ginnastica, però non io che parlo allora, tutto è cominciato da un tizio che si credeva padre eterno, diciamo così cioè nel senso un tizio che non voleva che altre persone mettessero sui loro profili delle canzoni di un film che hanno fatto cioè lui poteva essere l'unico a metterle e questa cosa sinceramente non va bene pure perché lui si è spacciato per uno che ci lavorava poi abbiamo scoperto che non era vero e tutto allora, dopo di che io mi sono ingavolata nera perché? perché questo tizio si è pur arrabbiato perché io avevo scritto il testo di una canzone molto difficile cioè io ci sono riuscita e lui no quindi me l'ha fatto pesare sotto consiglio del mio fidanzato ho fatto un video in cui dicevo le mie ragioni il primo video vero che ho fatto però ero tipo così ciao ragazzi benvenuti nel mio canale vi voglio parlare di una cosa che mi è successa cioè alla fine l'ho rimosso dopo un po' e praticamente perché mi è venuto come un panico un attacco di panico perché l'avevo postato da poche ore e già avevo ricevuto tipo più di 60 visualizzazioni e per me era troppo tenendo presente che nel mio canale c'erano 6-7 iscritti all'epoca quindi era troppo poi ho ricevuto anche dei commenti che sinceramente non li ho neanche voluti leggere però mi era arrivata la notifica e io ho avuto diciamo come paura perché questi personaggi sono pericolosi quindi ho avuto in un certo senso paura che questo tizio vedendo il mio video poteva fare in modo di mettermi diciamo le persone contro perché queste cose cioè queste persone sono persone senza scrupoli e quindi alla fine l'ho rimosso anche perché per me è stato troppo cioè vedere tutte quelle visualizzazioni tenendo presente gli scritti che avevo poi mi ero però divertita così tanto che ho deciso ho detto ma uso questo canale e provo a fare dei video in cui mi presento parlo delle mie passioni parlo anche delle mie esperienze ovviamente non mettendo proprio tutto tutto perché ci sono delle cose veramente molto personali che io non andrei mai a mettere però ho deciso così di fare dei video oltretutto io avevo fatto un sondaggio due giorni fa su altri profili in cui avevo messo volete che continui a fare dei video e praticamente ho ricevuto più sì che no quindi alla fine continuo a fare dei video però diciamo che preferisco ecco fare video sensati perché mo voglio fare un appello praticamente vi ricordate il video precedente quello ero stata vittima di bullismo praticamente qualcuno di queste persone come al solito mi ha dato ancora fastidio dicendo che se continuavo a fare dei video uno mi andava a denunciare allora io voglio fare un appello se io per esempio parlo parlo e dico questa ragazza nome e cognome mi ha fatto questo a prescindere se è la verità oppure no giustamente io finisco dentro dentro le dietro le sbarre in parola povere però se io dico questa ragazza c'è stata una ragazza che mi ha fatto questo senza fare nome nessuno mi può fare niente poi sono stata accusata ma tu stai a difarsità e tutto quanto ma quest'altra ragazza è un'altra che l'ho bloccata però prima di bloccarla io le ho detto le ho detto io credevo che tu eri diversa dalle altre perché lei è una di quelle che avevo deciso di tenere però evidentemente sei pure tu una delle tante da bloccare ma risposto hai problemi se fai così non è che io ho dei problemi e tutto però andiamo a chi è che piace essere minacciato o altre cose tecnicamente non avrei neanche dovuto fare questo appello perché se lo vedono queste ragazze poi succederà che possono commentare anche se io non ho fatto nomi infatti se avete fatto caso c'è stata una persona nell'altro video che aveva detto ma come si chiama questo gruppo io che cosa ho risposto l'ho detto forse no ho detto guarda io non te lo posso dire perché è contro legge quindi un messaggio che voglio fare a queste ragazze non mi potete fare niente perché io i nomi non li ho fatti i vostri nomi non li ho fatti quindi si minacciate pure tanto tanto si è capito che al di là del fatto che voi dite è qua nessuno ti sta a pensare però nel momento in cui mi vai a insultare come no che non mi stai a pensare quindi alla fine state almeno zitta niente è un appello che volevo fare poi veramente vorrei chiedervi un consiglio allora io sto facendo diversi video ho fatto dei video sulla ginnastica ho fatto dei video delle mie esperienze personali ho fatto dei video dove sto con il mio fidanzato insomma ci sono parecchie tipologie di video voi che mi consigliate di fare ancora? cioè non per forza che devo continuare a fare video sulle mie esperienze personali posso pure decidere di fare un video proprio totalmente nuovo che non ha a che fare con i video precedenti voi avete qualche consiglio quindi sono ben accetti i consigli che mi date e adesso vi saluto e commentate qui sotto cosa volete che approfondisco o cosa volete che faccio presto ragazzi sì Grazie.